Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Cosa andiamo a vedere oggi? Un altro prodotto della linea Lopiparo, quel negozio di Torino che fa forniture militari, di cui vi lascio in descrizione tutti i contatti. Cosa andiamo a vedere oggi? Un altro prodotto Special Operation Tactical Equipment ed è un bellissimo laccio emostatico. Eccolo qua. Allora, è un laccio emostatico molto molto piccolo e compatto che di per sé è molto molto semplice nella sua funzione. Come potete vedere è composto quindi molto semplicemente da un lungo e lunghissimo, eccolo qua, elastico e la sua particolare fibia apposta per andarlo a chiudere. Come funziona questo laccio? Allora, basterà inserire in questo anello il resto del laccio, farlo scorrere fino ad ottenere un anello di più o meno tre dita, da tre dita, poco di più, andrà inserito chiaramente nella parte a monte, nell'arto ferito. Ve lo faccio vedere. Scusate, ma con la videocamera davanti è un po' più complicato. Si inserirà l'altro capo, quindi questa parte qua, nell'anello appena creato e si andrà a tirare in maniera da andare a stringere così, nella parte superiore, il nostro laccio. Andremo poi quindi a girare tutto intorno al braccio, in questo caso, o alla parte ferita chiaramente, per andare a stringere e a creare l'inevitabile, quello che ci serve, l'accio emostatico. Come andremo poi a chiuderla? Andremo a infilarla in questa parte qua e in quest'altra asola lì, tireremo e questa da qua non scapperà più. Veramente, veramente comodo e rapido da attivare, soprattutto con una mano sola. Quindi, per toglierlo invece, basterà sganciarlo e chiaramente andare a sciogliere il... eccolo qua, il laccio e quindi la fibbia. Molto molto piccolo, molto molto compatto, indispensabile nei vostri kit di sopravvivenza, oppure nei First Tite Kit o Survivor Kit, o comunque, dove volete. L'unica roba che voglio dire in più è, fate attenzione all'utilizzo però dei lacci emostatici o lacci arteriosi, perché, è solo una piccola cosa che voglio aggiungere, non sempre è la soluzione migliore per andare a curare determinati tipi di ferite. Quindi, fate attenzione al suo utilizzo, non è così facile da andare a usare, se lo si usa malamente si rischia di fare più danni di quelli che effettivamente si vuole. All'interno del canale c'è un altro video sul cut che vi andrà a spiegare in maniera più chiara e dettagliata come funziona effettivamente un laccio arterioso. Quindi, se avete... se siete curiosi della cosa, andatevi a vedere l'altro video che spiega in maniera molto molto chiara come funziona. Questo, come potete vedere, le dimensioni sono molto piccole e il laccio emostatico che è tascabile, comunque, del vostro survival kit. Veramente un bel prodottino utilissimo. Grazie ragazzi, il video finisce qua. Vi ricordo che in descrizione ci sono i contatti del negozio. Per qualunque altra roba scrivetemi qua sotto e basta. Grazie ragazzi per avermi seguito e alla prossima.